STA BLEFANDO Giochiamo su fulltilpoker.net L'esperienza è bellissima, è una cosa con grande adrenalina. Cosa vuoi? È la mia prima esperienza. Un ticket vinto su gioco digitale, perciò è il massimo della giornata. L'impressione di questo torneo è un'esperienza bellissima. Penso che ne rifarò un altro poi. Spero di andare a Las Vegas. Speriamo che vada bene. Ma cosa vuoi? È un gioco. Ero prima, adesso siamo arrivati agli ultimi forse. Ma è stato così bello. È un'esperienza nuova. Siamo andati in finale. È già una soddisfazione. Con tanti campioni che ci sono stati. Noi siamo uomini di strada. E non campioni. E ne figli di papà. Siamo qui. Siamo rivertendo. Che devo dire? Niente. Niente. È una lotteria che si spera di prendere il biglietto buono. Sì, amore. Sei tranquillo. Che papà adesso poi viene. Eh? Arriva, papà. Arriva. Te la porto, papà. Arriva. Sei tranquillo, eh? Ok? Ciao, amore. Ciao, patatone. Ciao. Ciao, Paolo. Ciao, ciao. Che dico? Che dico? Che dico? Che mi sto divertendo da morire. Sono venuto praticamente quasi per gioco. Volevo farmi questa esperienza. E... Che l'abbattiamo. Che l'abbiamo.